Salve a tutti e benvenuti finalmente a un altro video di questa rubrica di 10 giorni di positività che mi rendo conto che sono diventati due mesi perché ci sto mettendo dieci anni e mezzo per pubblicare ogni singolo video però noi ci proviamo, andiamo avanti come potete vedere il mio bellissimissimo banner della divinità che è venuto con me a casa da Grastomburi perché è troppo bello, sono troppo felice ho deciso di metterlo qua così mi protegge appunto nei video sto registrando il video con il cellulare quindi magari la qualità sarà un po' scadente ma la GoPro era scarica e ha detto no, io questo è l'unico giorno che posso registrare video li devo registrare adesso e oggi parliamo del nuovo argomento dei 10 giorni di positività che è ama chi ti ama in particolare vorrei mettere ama chi ti ama era il titolo originale però vorrei anche mettere in particolare ama te stesso allora questo tema nasce dal fatto che ultimamente mi stanno contattando tantissime persone che non sentivo da veramente tantissimo tempo persone che ho conosciuto ma vi parlo di milioni di anni fa e soprattutto stavo riflettendo sui tipi di rapporti che ho installato qua a Londra o comunque stavo riflettendo in generale sui tipi di persone che fanno parte della mia vita tra l'altro ragazzi quanto è bello parlare in italiano non potete avere un'idea penso che discorsi così lunghi e intricati li faccio soltanto con voi su youtube in italiano ed è bellissimo comunque ritornando a noi perché pensavo questa cosa? pensavo questa cosa perché molte volte io ripenso soprattutto a persone che nella mia vita non ci sono più non perché sono morte, sono ancora vive però ecco non stavo riflettendo molto su questa cosa dei cammini che si intrecciano cammini che non si intrecciano o che ne so ci manca una determinata persona però questa determinata persona quando fa parte della nostra vita distrugge il nostro equilibrio distrugge la nostra felicità e questo genere di cose perché esistono questo tipo di persone nocive che per quanto noi vogliamo bene a quella persona in realtà noi vogliamo bene al ricordo o comunque al sentimento che ci legava quella persona ma magari quella persona non fa più per noi purtroppo e io in particolare ho comunque un paio di persone su cui posso effettivamente fare un esempio abbastanza concreto di questa cosa e a cui ogni tanto penso poi inizio a dire magari era colpa mia magari non era colpa mia e comincio a ripensare a tutte queste cose dicendo magari gli mando un messaggio no, no, no perché come ci insegnano tutti quanti i vari e diversi video che abbiamo affrontato finora se loro non fanno più parte della nostra vita ci sarà un perché perché appunto soprattutto ultimamente mi sto rendendo conto che tutto succede assolutamente per un motivo preciso e per questo motivo preciso magari quella persona non era destinata a essere parte della nostra vita magari era destinata a farci capire un aspetto di noi stessi o un aspetto di come noi ci approcciamo con il prossimo o magari doveva semplicemente farci capire che magari non siamo fatti per tutti o che non tutti possono andare d'accordo ma l'andare d'accordo o il far parte della vita dell'altro questo non esclude assolutamente un voler bene alla persona che abbiamo di fronte perché io ci sono tantissime persone a cui voglio un bene dell'anima ma tanto, 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 tanto ma non possiamo essere amici è un po' quella frase stupida delle relazioni non possiamo stare insieme perché ti amo troppo è un po' la stessa cosa ti voglio troppo bene ma ti voglio solo bene nel senso che non molte volte è difficile coesistere con persone che non sono destinate a essere parte della nostra vita io sto lottando con i capelli oggi troppi capelli mamma mia aiuto e questo esempio mi è venuto soprattutto perché quando sono andata l'ultima volta a Glastonbury ho pensato a un paio di persone che facevano parte della mia vita in passato e con cui condividevo questa cosa di Glastonbury e parlando parlando con me stessa parlando parlando con la dea perché appunto lì è abbastanza normale parlare con la dea così proprio come sto parlando io con voi ho capito che effettivamente non era destino in questo momento della mia vita avere quelle persone accanto a me e magari non è destino per quelle persone avermi accanto questo non significa che ovviamente questa cosa non possa riaccadere in dieci anni questa cosa non possa riaccadere in vent'anni e non possa riaccadere domani però noi non dobbiamo e non possiamo vivere in funzione dell'attesa del prossimo noi dobbiamo imparare a prendere il centro del punto di vista il centro dell'impegno e della nostra vita e metterlo qua praticamente e in base a questa cosa poi lavorare vivere camminare per il proprio sentire lo spirituale eccetera eccetera ed essere pronti a 360 gradi a ricevere dall'universo che l'universo ci possa dare cose belle cose brutte tutto quello che ci dà ci aiuta a capire quello che possiamo fare quello che siamo in grado di fare quello che non possiamo fare quello che non siamo in grado di fare e questo ci aiuta o giorno per giorno a capire che tipo di persone siamo ora appurato questa cosa perché ho chiamato il titolo ama chi ti ama perché molto spesso noi perdiamo tanto tanto tempo appresso a queste attese infinite per queste persone che non fanno più parte della nostra vita aspettando che arrivi il giorno in cui magari loro ci mandino un messaggio aspettando che magari arrivi il giorno in cui loro si girino impazziscano e ci vengano a fare una sorpresa sotto casa viviamo di queste attese continue queste energie spese a pensare sempre alla stessa persona e poi magari chiudiamo la possibilità ad altre persone di entrare a far parte della nostra vita o ad altre persone che già fanno parte della nostra vita di diventare importanti questo perché io ho passato proprio un anno molto molto legato perché io praticamente vi sto facendo questi dieci giorni di positività che alla fine sono altro che dieci video dati da tutte le esperienze che io ho maturato dal 2016 a mo vivendo a Londra perché ovviamente sono andata via di casa ho salutato la mia famiglia mi sono rifatta completamente una vita qua ho conosciuto tantissime persone ho salutato tantissime persone che facevano parte della mia vita non perché non ci fosse più spazio per loro ma perché magari non condividevamo più niente e ovviamente quando quella persona che è di fronte non condivide più niente non vuole più condividere niente con te ovviamente diventa molto difficile gestire il rapporto fatto sta che ho anche capito che alcune persone che facevano parte della mia vita fin da prima di Londra erano persone molto importanti erano persone che io volevo avere nella mia vita ed erano persone che io tuttora voglio comunque portare avanti come rapporto ed è veramente molto importante ma se io stessi ora ad aspettare che le persone che in realtà volevo bene ma che non fanno più parte della mia vita tornino e questo genere di cose qua io spenderei le mie energie piangendomi addosso aspettando qualcuno che in realtà magari non mi vuole neanche poi così bene alla fine della fiera e tolgo poi la possibilità alle persone che mi amano e mi vogliono bene di vivermi e io di vivere queste persone per esempio ho sempre pensato che Glastonbury fosse mo vi parlo di Glastonbury perché è proprio l'esempio ultimo che mi è successo quindi mi è più facile da descrivere ho sempre pensato che questa cosa fosse una condivisione di cose tra me e una persona della mia vita questa persona non fa più parte della mia vita nonostante io le voglia un bene infinito nonostante abbiamo condiviso tantissime cose ma va bene così nel senso che io ho salutato questa persona nella maniera più giusta e io le auguro veramente tantissimo cioè io spero che nella vita possa fare tutto quello che può e che porti a termine tutte le cose che la rendono felice perché è questo che noi dobbiamo augurare alle persone che non fanno più parte della nostra vita e ho sempre connesso questa cosa con questa persona qua in particolare adesso questa persona non fa più parte della mia vita io sto portando comunque avanti i carastomburi e credevo un tempo che non sarebbe stata la stessa cosa invece da sola mi sento ancora meglio mi sento io ecco e allo stesso tempo senza che io me ne renda conto o comunque la Dea è stata diciamo a decidere questa cosa sto riallacciando rapporti con persone che prima non non vedevo chiaramente e che adesso sto realizzando che in realtà era tutto destino che io facessi questa cosa con questa persona in particolare che non avevo tra virgolette inserito nel grande disegno prima perché ero troppo appresso a tutta questa cosa del oh quella persona non fa più parte della mia vita eccetera eccetera quindi se noi siamo appresso guardiamo soltanto quello che non abbiamo soltanto che con quella con X non funziona più che era l'amica della mia vita queste cose così o anche era il fidanzato della mia vita o anche che ne so era qualunque altra cosa qualunque legame che non sia di sangue come la famiglia perché per me il legame della famiglia per quanto ci siano famiglie più unite famiglie non più unite eccetera eccetera quello è indissolubile quindi nel momento in cui noi ci focalizziamo solo su una cosa che vediamo che non va e non va basta dobbiamo muovere e andare avanti nel momento in cui noi decidiamo di andare avanti l'universo si muove da solo l'universo ci presenta altre miliardi di sfide l'universo ci presenta tantissime altre cose che noi non avevamo preso in considerazione e tutto si muove è come se fosse un grande ingranaggio quindi nel momento in cui noi cominciamo a muoverci in sincronia con l'universo allora tutto arriva e tutto poi si si risistema ecco quindi perché ama chi ti ama perché è inutile spendere tempo a cercare di piacere a qualcuno che non è destino che sia nella nostra vita perché noi non dobbiamo sforzarci di piacere a nessuno perché noi dobbiamo amare chi ci ama esattamente così come siamo con tutti i nostri difetti con tutti i nostri momenti in cui impazziamo e questo genere di cose qua quindi amate chi vi ama e amate voi stessi perché se amate voi stessi gli altri vi ameranno a vostra volta se amate qualcuno che non capisce quanto voi siate meravigliosamente unici e meravigliosamente speciali non lo capirà mai e se vi amerà sarà una costruzione dovete amare quella persona che nel primo momento ovviamente non è sempre così però ci sono molte persone che nel momento in cui uno si conosce c'è quella cosa che dici no oddio questa persona mi piace dovete cercare rapporti così dovete andare a cercare persone che hanno questa scintilla nei vostri confronti e persone con cui avete questa scintilla e quindi niente io spero di essere stata abbastanza chiara anche se ho fatto un po' di inciuci tra quello che non mi vuole più bene e quell'altro insomma amate chi vi ama e smettetela di cercare di piacere a persone che non capiscono quanto siete speciali mua che non capiscono Grazie a tutti.